ciao a tutti è un po' che non faccio sia un video mio e tanto tempo pure che non faccio un video in cui mi faccio vedere oggi faccio questo video per ricordare una persona una persona che che ci ha lasciati credo qualche ora fa ci ha lasciati purtroppo la signora stefana benenato che era la sorella di franco franchi aveva 89 anni ed è morta a causa dell'alzheimer l'ho scoperto poco fa e quindi non è facile fare questo video perché lei era un pezzo di memoria storica di franco e ciccio per quello che poteva raccontare era stata qualche volta in televisione tra cui anche la fabrizio fizzi quando faceva i soliti ignoti quindi quindi adesso è diventata un angelo che che ci protegge che proteggerà i suoi cari e che speriamo da lassù si faccia di nuovo qualche risata con con franco e ciccio perché di sicuro anche loro lì in cielo recitano e quindi chissà che che stanno combinando quindi speriamo che la signora stefana si possa divertire di nuovo accanto al suo fratello e ai suoi fratelli perché ne aveva anche altri e niente ciao stefana e non ti dimenticheremo ciao ciao a tutti